È partito questa mattina da Monticelli lo screening con test sierologico voluto dalla regione Emilia-Romagna per valutare la diffusione del virus nelle popolazioni delle aree più colpite. Piacenza è la prima provincia a cominciare. I test sono effettuati capillarmente sul territorio, nelle case della salute, nei punti prelievi degli ospedali e su due postazioni mobili che saranno disponibili dalla prossima settimana. Ai cittadini viene prelevata una di sangue, poi inviata al laboratorio analisi dell'ospedale di Piacenza per verificare lo stato immunitario della persona. I cittadini coinvolti sono stati contattati direttamente dall'USL con una telefonata. In questa prima fase si tratta di circa 30.000 persone, i pazienti positivi dei loro conviventi e dei contatti stretti. Nelle prossime settimane sarà coinvolto un secondo cluster, un campione di circa 30.000 piacentini rappresentativo della popolazione generale per sesso, età e distribuzione geografica, oltre a 40.000 test che saranno effettuati nelle aziende. In totale saranno svolti oltre 100.000 campionature. Lo screening è partito oggi e proseguirà domani dalla Casa della Salute di Monticelli, a cui fa riferimento anche la popolazione dei comuni di Castelvetto, Caorso e Villanova. La prossima tappa, giovedì e venerdì, è in programma nelle Case della Salute di Carpaneto, con il coinvolgimento anche dei residenti dei comuni di San Giorgio e Grupparello. Sabato sarà la volta di rivergaro nella medicina di gruppo. La prossima settimana lo screening coinvolgerà anche Piacenza e altri comuni, secondo una programmazione in corso di valutazione. Lo screening, attivato dalla regione, è gratuito. I cittadini non devono fare nulla, saranno contattati direttamente dagli operatori sanitari qualora rientrino in uno dei gruppi individuati. L'esito del test sarà inviato sul fascicolo sanitario elettronico e caricato sul sistema sole per essere consultabile dal medico di famiglia. L'esame sirologico è orientato alla ricerca degli anticorpi IgG. Un risultato negativo indica l'assenza o un livello molto basso di questi anticorpi. Questa situazione si verifica quando la persona non ha sviluppato la malattia, ma potrebbe anche indicare che sia ancora in un periodo di incubazione o negli stadi precoci della malattia. Quindi si invitano i cittadini a rispettare le disposizioni ministeriali relative al distanziamento sociale e all'uso della mascherina quando necessario. Se il risultato è positivo, il cittadino, se non in possesso di un recente esito negativo di tampone, dovrà svolgerne uno di verifica. In attesa dell'esame sarà posto in isolamento precauzionale. A questa opportunità si affiancano altre iniziative di sorveglianza attiva messe in campo nelle scorse settimane. In particolare prosegue lo screening, sempre con test sirologici, dedicato ai dipendenti dell'azienda USL di Piacenza e poi ampliato ai volontari del 118 e ad altro personale sociosanitario. Da questa settimana è offerta ai datori di lavoro la possibilità di fare uno screening sirologico sui dipendenti a proprie spese. Per farlo le imprese devono semplicemente comunicare alla Regione Emilia-Romagna l'avvio del programma indicando il laboratorio scelto tra quelli autorizzati. Sempre da questa settimana anche i privati cittadini possono sottoporsi al test sirologico a pagamento. Per farlo occorre rivolgersi a un medico che valuterà l'appropriatezza dell'esame e il momento opportuno per farlo. Attualmente in provincia sono una decina i centri disponibili. La lista è disponibile sul nostro sito internet. Effettuando il test il cittadino entrerà in un percorso strettamente regolato e controllato dal sistema sanitario. Se l'esito del test è positivo scatterà da subito l'isolamento precauzionale in attesa dell'effettuazione del tampone a cura del servizio sanitario regionale.